se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità scrive paolo nella prima lettera ai corinzi sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita già se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi la carità intelligenza forza di volontà delicatezza intuizione memoria possono destare ammirazione ma non portano beneficio ad altri se non quando si accoppiano con la carità cioè con il desiderio di fare del bene agli altri utilizzando quelle qualità ammirevoli la carità l'amore al prossimo è il canale o a volte forse anche solo il pertugio da cui passa e si diffonde ogni nostra buona qualità perché senza quel passaggio ripeto ognuno di noi resterebbe murato dentro se stesso una persona intelligente ma senza questa apertura mi farebbe solo paura una una persona dalla volontà fortissima ma senza lo sbocco della carità pure mi farebbe paura una giustizia non compassionevole sarebbe solo cinismo da brividi la stessa fede sapete diventa fanatismo fin quando non arriva ad accoppiarsi con la carità basta ricordare i kamikaze estremisti islamici poi paolo dice anche la carità non avrà mai fine in effetti la fede sparirà quando vedremo dio faccia a come fai avere fede quando vedi se vedi non c'è più bisogno della fede la speranza pure non funzionerà più sarà come una pompa senza acqua quando avremo ottenuto dio avremo profiugato il pozzo dei desideri avremo tutto e molto di più di quello che desideriamo e allora che cosa spereremo non serve la speranza ma l'amore non solo continuerà ma anzi aumenterà invaderà ogni fibra del nostro essere così che noi potremo assomigliare finalmente davvero a dio come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri vedete la carità è il segno che distingue i cristiani nel mondo almeno in teoria infatti i musulmani si caratterizzano per la fede che si direbbe cieca assoluta gli ebrei sono fortissimi nella speranza da millenni sperano nel messia senza mai riconoscerlo poi in nessuna situazione noi cristiani abbiamo il distintivo della carità certo che anche gli altri sanno di dover amare è vero ma ogni uomo può contentarsi del comandamento ama il prossimo tuo come te stesso per noi cristiani questo comandamento non basta Gesù dice amatevi come come io ho amato voi e come amava Gesù Gesù col suo amore dava vita da ancora oggi vita ai malati ai poveri agli ultimi Gesù lo ha predicato senza parole lavando i piedi e gli apostoli sapete era il compito degli schiavi e poi lo ha dimostrato in un modo estremo sulla croce amare il prossimo come Gesù oggi è un affare complesso non si tratta dell'elemosina è qualcosa che si può compiere solo comunitariamente e attraverso organizzazioni serie oggi si ama il prossimo come Gesù attraverso scelte sociali politiche e ambientali molto aperte molto avvedute io credo che nel mondo complesso di oggi non ci sia vera carità senza passare per la dottrina sociale della chiesa niente è più necessario in questo momento storico mondiale di una distribuzione dei beni assolutamente più giusta oggi la distribuzione dei beni nel mondo è folle noi abbiamo un'infinità di cose inutili e un'infinità di gente manca del necessario quella che stiamo vivendo è un'ingiustizia che non è che arriva e poi se ne andrà via è l'ondata di ingiustizia sociale globale che è giunta fino a noi cioè che soffoca persino l'occidente che l'ha provocata questa onda anomala dell'avidità assoluta che distrugge tutto ci si sta rivoltando contro forse l'occasione buona per cambiare questa distribuzione ingiusta dei beni della terra come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri